La battosta contro l'Atalanta ha lasciato il segno, ma i tifosi non hanno contestato qualche fischio e tanta delusione. È vero che la Coppa Italia non è una priorità del Siena, ma uno 0-4 casalingo a sei giorni dalla prima di campionato con il Cagliari al Franchi lascia perplessi sullo stato di forma dei Toscani e sulla consistenza della Rosa. Ieri mancavano Cozza, Volpati e Bogdani, le grottaglie era in panchina, ma l'allarme resta in una piazza che ha sofferto fino all'ultimo minuto dello scorso campionato per raggiungere la salvezza.